si torna più 4 per la Dolomita Energia Trentino che adesso attacca con Hackett Spagnolo ancora in campo 1.50 alla fine Spagnolo cerca di disorientare con le finte poi un marcatore poi Atkins il duello con Granger che ferma Atkins in modo irregolare a mio avviso anche in questo caso forse Atkins avrebbe potuto sfruttare maggiormente il mismatch con Granger invece errore al tiro solo due liberi per il 44 che oggi sta viaggiando a 15 punti 32 minuti sul parquet 60% la 2 per lui 100% dall'arco con un'unica tripla tentata e segnata per ora 0% i liberi adesso sono arrivati i primi due tiri per lui in serie imbalzi totali però dei 24 conquistati dalla squadra sono esattamente 24 anche i rimbalzi totali della Rayer Venezia il miglior rimbalzista dei mediotessitori proprio 7 esattamente proprio come nella partita vinta nello scorso turno contro Varese mentre c'è bisogno di sistemare qualcosa al tavolo degli arbitri è stato chiamato l'instant quindi sicuramente sarà qualche problemino rispetto ai secondi restanti infatti non al cronometro di gioco ma proprio secondo i secondi a disposizione ci saranno comunque due liberi da dover battere da dover tirare e cercare di segnare per Atkins e per la dolomita energia che tiene questi quattro punti di vantaggio segna il primo Atkins percentuali di Trento da due che si sono alzate moltissimo 65% Lockett intanto dopo l'errore di Atkins restando sul campo spagnolo predica calma adesso il nove Flaccadori e Atkins che si buttano nel pitturato Flaccadori adesso esce a ricevere per questa tripla che non entra Lockett ancora per la tap out c'è il rimbalzo di Parks dopo l'aiuto di Willis quindi Granger che è rientrato al posto di Spissu a cercare di inventare qualcosa nella metà campo offensiva per la Reiera ancora Granger finta di tiro va fino in fondo Udom capolavoro nel prendere questo pallone poi Spagnolo non riesce a tenerlo in campo anzi lo ha toccato proprio quando era fuori Granger vuole Willis pallone rischioso con Flaccadori che attaccava ancora Granger Lockett a disturbare proprio Granger va fino in fondo l'undici Lockett a chiudere Granger a inventarsi un canestro spettacolare bellissimo 84-81 Spagnolo Atkins a cercare di creare un vantaggio per il nove adesso cambio di marcatura accettato con Willis differenza di gambe si è vista tutta Atkins poi non riesce nel tapin Willis ha rimbalzo Atkins qui sbaglia in modo anche grave può essere importante quindi questo attacco per Granger 37 secondi adesso alla fine della partita Atkins sul numero 11 anche qui c'è gran differenza e rapidità di gambe Granger prova a disorientare Atkins poi arriva il fallo col pallone che è uscito Atkins nella metà capo offensiva non riesce ad andare in tapin qui invece regala tiri liberi con questo tentativo di andare in chiusura e di stoppare Granger comunque azione di disturbo che ha funzionato su 31 secondi alla fine ma con Granger che può andare con questo tripice tentativo i fischi della BLM Grupa Arena l'errore di Granger che con un po' di sfortuna sbaglia il primo usando un po' male adesso avrà un'altra opportunità come vi dicevo giocatore con passaporto anche italiano provabile sfide prima con Sassari arrivare a quarti sarebbe fondamentale appunto per il fattore qua campo per la Reger Venezia non erano tre ma due i liberi soprattutto è arrivato un uno su due e adesso arriva anche il timeout per la Dolomiti energia Trentino chiesto da coach Emanuele Molin perché mancano 31 secondi perché la Dolomiti è sopra di due e soprattutto proprio perché questi due punti in palio possono essere comunque molto pesanti giocheranno la possibilità di alzare il trofeo e quindi anche di staccare il pass per la prossima stagione di Eurolega prossimo weekend ovviamente ultimo appuntamento come vi dicevo nella regular season della Serie A Unipol 6 con tutte le otto gare in diretta su 11 dall'ora 18 20 secondi alla fine Atkins perde il pallone Flaccadori non riesce a tenerlo attenzione anche Ranger Willis ha l'opportunità di andare da Moraschini la schiacciata a 13 secondi dalla fine il pareggio che pasticcio della Dolomiti Energia Trentino che di fatto consegna questa opportunità di andare supplementari ricordo 13 e 5 84 pari Lockett adesso a servire Flaccadori brutta persa di Flaccadori in precedenza Moraschini proprio su Flaccadori rischia di recuperare il pallone Moraschini non c'è fallo pallone per Spagnolo attenzione che mancano tre secondi due liberi ed è Bramos a mettersi le mani nei capelli perché va a combinare un pasticcio raddoppiando Spagnolo ma in modo irregolare qua due liberi adesso a disposizione anche se si impari a vedere perché coach Levens Spaglia sicuramente non avrà gradito ma possiamo anche dirvi che si sta valutando a dire il vero l'antisportività o meno con effettivamente Parks che sembra andare abbastanza convinto sul pallone potrebbe rischiare e come era Reier di affidare di fatto un fallo antisportivo alla Dolomit Energia Trentino che avrebbe quindi possibilità di andare due volte al tiro libero di avere anche il pallone tra le mani a un secondo e nove decimi dalla fine quindi ovviamente scelta fondamentale importantissima altrimenti saranno solo due liberi per il gioiellino Trentino che se la ride Amaro adesso anche qualche situazione simpatica con Granger che si va a legare le scarpe proprio all'interno della lunetta per cercare di distrarre lo stesso Spagnolo adesso finisce l'opera fuori Spagnolo non lo distrae così evidentemente primo punto messo a segno e adesso altre opportunità attenzione perché dopo ci sono un secondo e nove decimi e Granger vuole il pallone perché dalla mia inquadratura ha chiesto proprio a Willis la palla più due time out si riprenderà dal fondo e non da metà campo ma attenzione a Granger ovviamente tutto sarà poi nelle mani di coach Spavia Parks attenzione a quest'ultimo secondo con nove decimi Granger prova dall'arco Granger la palla esce ma soprattutto in festa la BLM Grupp Arena con gli abbracci dei giocatori in mezzo al campo vince la donna energia Trentino 8-6-8-4 in questa ultima di regolare qui in casa fa festa in pubblico perché è stata battuta la Rayer Venezia che di fatto la cerima nemica sportivamente parlando come vi dicevo anche riguardando la storia di queste due squadre degli incontri delle sfide quella delle sei partite nella stagione 16-17 come abbiamo detto ma di fatto Trento vince e adesso ovviamente la festa del suo pubblico proprio in questa partita contro la Rayer Venezia riesce quindi a strappare due punticini come vi dicevo discorso da rimandare per la Rayer Venezia per blindare il quarto posto Dolomiti che può provare a fare qualcosina in più tutto nell'ultima giornata di questo l'ultima giornata l'ultima giornata che la rayer che la rayer